Dal 16 al 19 maggio la nuova fiera di Roma, la 23esima edizione di Forum PA sul tema Agenda Digitale, Semplificazione e Sviluppo nell'Open Government. Anche il Consiglio regionale del Piemonte è presente nello stand Piemonte Facile. Al suo interno il Consiglio regionale, insieme al CSI Piemonte, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino e Ares, presente i principali servizi digitali della pubblica amministrazione piemontese, in rete grazie al consorzio informatico pensati per rendere più facile la vita e il lavoro dei cittadini. Una pubblica amministrazione realmente efficiente, veloce e vicina alle persone, che offre servizi accessibili per tutti e facili da usare, da casa o dall'ufficio, senza carta e senza code, a portata di clic, sempre e dovunque.